Buongiorno ragazzi, allora, mezzogiorno, perfetto, ho appena fatto una session di 6 call, una roba estenuante, alcune porteranno novità e efficienza, altre solo rotture di palle e poi sono andato avanti a progettare, a fare il punto della stanza, avete scelto il lavoro lungo, adesso vi ciucciate il lavoro lungo lungo, complicato, con parecchie incognite, punti che non ho risolto, roba che non ho progettato, che voglio vedere divenire, insomma, il solito bordello che succede qua tutto così, come viene, viene allora, vi ricordo che avete votato di iniziare con la ProtoRoom, che è un lavoro lungo, che serve per ospitare laser, CNC, stampa 3D, stazione di saldatura elettronica una postazione in cui progettare, perché sono stufo di progettare là in casa, poi venire di qua per stampare le cose alla CNC, tagliare le cose alla CNC o dopo per stamparle con la stampa 3D o dopo per tagliarle il laser, quindi un po' di setup di lì per poter lavorare più tranquillamente e ha una serie di complicazioni la prima complicazione è che, come vi ho detto, ad aprile, per chi non l'avesse ancora sentito, arriva il laser il laser ha una misura piuttosto importante, non può essere piegato, inclinato, ruotato di 90 gradi deve passare da quella porta e non ci passa, lasciate stare il nero che è una sorta di... è una porta di quella della cantiere non passa da quella porta, il che ci richiede di aprire un vano qua abbiamo votato, sul suggerimento di uno di voi, un vano in quella posizione che sfocia direttamente nell'altra stanza cioè dietro qua praticamente, un vano semipervio, che vuol dire sempre presente, quindi rifinito ma coperto da questo mobile da un lato e da un altro dall'altro in modo tale che non è metti dentro la roba, chiudi e poi non puoi più uscire posso spostare, togliere, cambiare le macchine, passare con i pannelli, fare insomma un po' tutto quel cazzo che mi pare oltre a questo però, nella stanza vanno fatti alti lavori seguitemi perché vi metto tantissima carne al fuoco da qui ai prossimi mesi ve la spiego tutta ora ci sono tantissimi da fare nella stanza ho buttato giù un mini schizzo, un mini progettino ho buttato giù un elenco di cose da fare ve le faccio vedere così almeno sapete di che morte moriamo vi presento intanto la nuova versione di paper, la versione 2.0 carton su cui ho deciso di fare questo bellissimo progetto allora, questa è la stanza con tutte le sue misure qua c'è la finestra, questa è la posizione del nuovo laser dopo vi faccio vedere il setup qua dentro non l'ho ancora fatto ho fatto solamente qualche dimensionamento dei tavoli ma tutto sarà in dipendenza del buco buco che andrà qua queste le misure del laser questo è l'elenco delle altre cose che vanno fatte oltre al vano c'è da separare l'impianto luci perché adesso, al momento, l'impianto luci è un univuco con un interruttore di qua e un interruttore di là avete capito bene un interruttore di qua e un interruttore di là non un deviatore e un altro deviatore quindi se accendo da una parte non spengo più di là se spengo di là non accendo più di qua non ho idea di perché sia stato fatto così ma non è stato fatto da me ad ogni modo le luci sono tutte uniche per l'antibagno, il magazzino e la protorub o stanza della ficcanza ho pensato bene allora di separare le luci così questa stanza rimane accesa da questo interruttore e quell'altra dall'alto così non devo per forza tutte le volte accendere tutto come, perché, con chi e in che modo lo vedremo perché tutti i faretti sono collegati sopra bisogna accedere sopra e pensarci altra cosa, nuove prese di corrente ci vorranno dubbiamente delle prese di corrente lì dove andrà posizionato il laser e mi dicono del laser veronese che devono essere due mi sono fatto mandare un elenco delle cose da preparare e probabilmente una launa qua a seconda di come sarà il setup poi presa di rete perché lì ci va una presa di rete per il laser le scrivanie che sono da fare perché abbiamo solo le gambe della pressanna e dell'altra parte della pressanna poi il passaggio da fare che come vi ho detto è un passaggio da fare qua ed è quello che ho intenzione di iniziare a preparare oggi iniziare a preparare perché voglio fare un lavoro chirurgico perché non voglio rimettere mano tanto al cartongesso e il passaggio, come coprirlo, come nascondolo con più ficcanza, con meno ficcanza lo vediamo alla fine di questa introduzione generale ragazzi è un lavoro veramente lungo, complicato che comporta tanti aspetti quindi datemi fiducia ancora un attimo come è stato per gli altri lavori lo sfogo dei fumi perché il laser avrà bisogno dello sfogo dei fumi da qui il motivo, il modo cioè da qui l'idea scusate di farlo in questa stanza perché c'è la finestra quindi una modifica non strutturale alla finestra in modo che possa sia aprirsi ma ospitare anche i fumi cioè lo sfogo dei fumi o anche chiudersi ma anche magari qualcosa di più complesso andando su o contro soffitto facendo tutto qualcosa e finendo sulla base il staff là in alto così almeno non c'è niente da modificare però questo punto come molti altri li vedrò magari arrivato il laser così avrò un'idea di come deve essere fatto lo sfogo dei fumi tanto al momento basta buttare fuori un tubo tante cose saranno lasciate in sospeso o rimandate o affrontate nel tempo perché il lavoro è lungo l'ho già detto? è lungo e in ultimo cosa segnata con un punto di domanda anzi due la separazione del locale e la porta non so ancora se separare definitivamente questo locale dagli altri compreso il fatto che c'è anche il sopra e non ho idea cosa sia quella roba lì a cosa serve perché l'abbiano fatta però chiudere anche quella e la porta magari mettere una porta vera non lo so devo ancora decidere per tutti quelli che ieri mi hanno detto fai una libreria nascosta fai come quella del califore libreria nascosta qua davanti sì e no ragazzi allora fare libreria nascosta è una questione di profondità per cui adesso poi vi spiego il ragionamento e cosa ho intenzione invece di fare per tutti quelli invece che mi hanno detto se sono sicuro della scelta rimettere la CNC insieme a laser e stampante 3D dato che la CNC produce un sacco di polvere la risposta è sì per un semplice motivo primo non è ancora detto che la CNC rimanga questa quindi probabilmente potrebbe essere più piccola anzi nella mia verità dovrebbe essere un po' più piccola non con una superficie 80x80 che non mi serve quasi mai e più però più precisa e poi questo è inclusur che non rimarrà comunque tale perché va totalmente disfato e rifatto vi ricordo che questo era stato un progetto fatto di scarti senza nessun progetto senza nessun disegno contiene perfettamente le polveri dentro c'è lo schifo nonostante io non usi mai l'aspirazione della CNC perché la reputo completamente inutile e mi dà solo fastidio preferisco racchiudere tutto e aspirare una volta quindi sì da lì o meglio dalla nuova versione sono sicuro che non uscirà assolutamente niente di polvere perché basta tenere tutto chiuso lì dentro detto questo il primo lavoro da fare è il foro che è in verità la prima cosa che mi serve per aprile però è la prima cosa che mi serve tutto il resto può essere fatto dopo non essere fatto affatto essere fatto in divenire sul foro cosa ho pensato? come vi dicevo di fare un foro dietro il mobile in realtà è stato suggerimento di qualcuno di voi col mobile che va a tappare la dimensione del foro la vediamo tra un attimo o meglio la vediamo una volta tolto il mobile bisogna ragionarci un attimo io mi sono segnato un 170x150 quindi un po' più piccolo di quel mobile lì come verrà coperto poi il foro? il foro come vi ho detto è semipervio cioè rimarrà sempre aperto non verrà ritappato quindi in teoria il mobile sarà il mobile a tappare il foro di qua il mobile però non sarà né incernierato da un lato né scorrerà all'insù sarà semplicemente su ruote perché non verrà fatto un lavoro di inceneramento? primo per comodità semplicemente è che è molto più facile sfilarlo dicevo molto più facile sfilarlo che ancorarlo da qualche parte che potrei ancorarlo solo lì perché di là non ho tutta la parete e aprirlo mi verrebbe in mezzo alle balle dovrei ridurre drasticamente la larghezza di questo mobile perché se sapete un minimo il trima di Pitagora quando vado a muovere un angolo quell'angolo lì sporge molto di più e quindi andrà a incappare contro il mobile ho fatto i conti dovrei ridurlo di mezzo modulo per quanto le scatole ci stiano farebbe schifo mezzo modulo in meno e tutto uno spazio e poi non è quello che voglio fare quel mobile lì va bene così con quella proporzione lì a quel punto dietro c'è il buco io presumo che il muro ma lo misuriamo dopo sia 18 cm come questo e qua rimane il foro come coprire qua l'altro foro con un sistema simile a quello anche perché mi troverei la polvere che entra perché il mobile non ha il fondo quello delle cassette e per quanto sia bello avere le cassette accessibili anche di qua anche se inutile mi interrebbe anche tutta la polvere come coprirlo lo vedremo poi e vediamo come coprire e nascondere questo foro in funzione anche di come verrà allestita la stanza di come verrà fatto il setup di questa stanza l'idea l'unica cosa fissa è la posizione del laser l'idea è che questa stanza sia iper ottimizzata negli spazi dato che è piccolina per tutta una serie di lavorazioni che sono stampa 3d taglio al laser cnc stazione di elettronica stazione per la saldatura di elettronica e una mini postazione per stare al computer questa è l'idea una stanza iper ottimizzata come al solito il progetto ve l'ho presentato a spanne perché in testa ce l'ho a spanne vediamo tutto in divenire inizia una nuova lunga probabilmente estenuante faticosissima è difficile avventura speriamo almeno sia divertente ora prima cosa da fare liberare tutto sopra togliere il mobile e già togliere con la televisione dato il peso da solo sarà una bella sfida a proposito della televisione sto pensando di venderla o metterla all'asta perché non me ne faccio niente non la uso effettivamente per le telecamere come l'avevo pensato è stato divertente farla e poi di fatto non la uso e mi ingombra sullo spazio non lo so ci sto pensando metterla all'asta perché era una delle cose che avevo detto nel discorso di fine anno non lo so ad ogni modo della stanza vi ho parlato tutto ciò che è tecnico non vi ho parlato dell'estetica perché l'estetica merita un ragionamento a parte sui colori tutto insomma bisogna entrare in uno spazio completamente diverso rispetto a quello che è qua deve avere un impatto visivo diverso ma basta ho parlato abbastanza scala pazienza senza ammazzarmi vedo il tiraggio tutto e spostare la libreria appena ho spostato tutto parliamo della dimensione del foro che deve avere è come farlo in maniera chirurgica non voglio mettermi a toccare il cartoncesso sarà impossibile non voglio rifare il cartoncesso ma ci proviamo non so voi ma io sono già sporco sudato e ho bisogno di un caffè però ho già spostato tutto la televisione era solo una questione di sgamataggine anche se pesa tanto il mobile avrà bisogno una bella modifica di solidità perché una volta messo su ruote non può fare così questo mobile è tutto fatto a pezzi e a scarti perché vi ricordo che nell'altro laboratorio era in realtà tutto in orizzontale o meglio secondo me comprendeva solo se non ricordo male solo quelle cassette lì poi sono state aggiunte queste quindi è tutto come si dice a Milano taglie medega quindi avrà bisogno sicuramente non un pannello intero dietro perché non compro un pannello da sprecare così ma con tutti gli scarti continueremo a fare quel questi pezzi qua in modo tale dargli più solidità e metterlo su ruote perché comunque pesicchia comprerò altre otto di quelle ruote e via così la parete allora i pannelli sono una copertura da 4 mm dietro c'è una doppia lastra di cartongesso 12 più 12 ora andiamo su assieme senza che io mi ammazzi e vi faccio vedere com'è la situation su e come avevo pensato di procedere è già qua è momento pannolone allora la situazione qua sopra è drammatica sia di sporco che di matasse di cavi vari guardate che il cavo direte da dove da dove viene giù giù da là si infila fino alla telecamera comunque le travi marroni che vedete sono travi in alluminio e sono quelle che danno la portanza al tutto sopra perché il sopra è stato pensato per essere portante sia di qua che dall'altra parte non come lato a casa perché qua ci potrebbe addirittura mettere un pavimento e usare tutta questa superficie ma non sarà mai fatto quindi le travi che sono quelle che scaricano il peso a terra attraverso i montanti io non vado il set che io devo tagliare che è qua davanti non so se riesco a farvi vedere è ben più in dentro ben rientrato rispetto alle travi che scaricano la terra quindi non c'è certo problema di rigidità di questa struttura qua mi aspettavo però di vedere qua sopra dove cadessero i montanti del cartongesso mentre no perché è stato tappato quindi io non lo vedo le campane mi confermano posso presumere sia dove sono quei traversi traverso montante traverso montante non lo so non che mi importi molto a dire la verità e so che devo farne fuori due perché devo tagliare circa cento centocinquanta quindi probabilmente due o anche tre non mi frega molto quali devo tagliare però mi sarebbe piaciuto saperlo prima qua più che altro per trovare le viti e svitarle forse togliendo la pannellatura con un cerca metalli trovo le viti non penso a trovare i traversi perché sono d'alluminio ad ogni modo altre cose che vedo a parte una marea di cavi e pensi di catongesso abbandonati che la pulizia fine cantiere ce la dimentichiamo separare le luci non sarà una passeggiata perché i faretti sono tutti in cascata devo capire bene l'ordine che fa per poi usare praticamente uno due tre e quattro questi quattro qua e basta ma ci pensiamo poi altra cosa difficile è venire giù quella parete là che vedete è la contoparete che è stata fatta quindi io dovevo infilare un cavo di rete e un cavo di alimentazione dentro là una cosa che vedo piuttosto difficile farsi quindi dovrò fare probabilmente un giro interno dalla scatoletta che già c'è per raggiungere le prese ma tutta questa roba la vediamo dopo sto cercando di analizzare la situazione più possibile per evitare di risalire qua sopra che sapete che per me è un problema da lava mutande cioè da pannolone un'altra cosa che vedo è quello là lo vedete quello là sopra bianco quello mi ricordo quando sono arrivato qua fosse un foro passante nel muro infatti sono due ganci e quando c'era l'autofficina lì c'era l'aspiratore dei fumi quindi forse che forse se io mettessi delle travi cioè delle delle cose da punteggio tra un listello e l'altro anche se qua c'è un divario enorme tra un listello e l'alto potrei portare l'aspirazione da lì sopra dove c'è il laser fino a direttamente la line esterna ci penso lo valutiamo poi tanto in alternativa c'è la finestra e magari con lo stesso principio riuscirei anche a passare i cavi meglio però non voglio ammazzarmi voglio fare un lavoro fatto bene senza morire ora direi che scendo vado a farmi un caffè e poi smonto la pannellatura e iniziamo a fare questo foro in maniera chirurgica grazie a tutti ragazzi ve lo dico mi sto prendendo il mio tempo sto lavorando molto con calma oggi e nei prossimi giorni questo lavoro va curato con attenzione allora tolto le pareti cioè la copertura mi sono segnato a matita la dimensione che voglio in pratica è 1.7 d'altezza per 1.5 allora 1.7 d'altezza per 1.5 di larghezza che è praticamente 5 cm più piccolo di tutto il mobile così che io posso andare contro il muro ed essere sicuro di non avere bave di luce per tutti quelli che mi hanno detto perché non usare questi pannelli qua come retro del mobile questi pannelli qua sono 4 mm quindi non sono strutturali è vero che potrei tagliare lo stesso e usarli così ma non evito di fare questo mobile qua perché questo mobile qua mi serve cioè serve all'allestimento della stanza è talmente piccolina che ho bisogno anche quello spazio lì quindi una cosa non esclude l'altra poi come tappare questo ci pensiamo a chi invece mi ha chiesto se uso quei tavoli lì se uso questi ripiani qua per fare le schivanie se mai un domani dovessi di nuovo piegare il legno come farò a usare per fare la pressanna questa è una domanda da babbano la parola giusta è babbano per chi l'ha fatta e per il tipo di domanda ora 1.7 di altezza per 1.5 allora largo è largo abbastanza non passa il laser per il senso largo ma passa per il senso stretto che è 1.2 1.5 largo ci passa un po' tutto tavoli pannelli da 1.250 nel caso qualsiasi cosa 1.7 di altezza io ho guardato un po' le CMC quelle dimensioni enormi sono 1.500 quindi 1.700 passa comunque più di così non mi sento da più e 1.700 permette anche che Anna corra di là senza battere la testa e senza abbassarsi quello che devo capire ora è come tagliarlo cioè non come ma dove tagliarlo o meglio vedere ovviamente i 1.500 di larghezza devono contenere anche il rinforzo quindi il rinforzo sarà annegato dentro non sarà da sottrarre ai 1.500 mi avete tutti detto che i montanti sono ogni 60 cm e allora mi tocca dire è un po' che non lo dicevo grazie al cazzo i montanti del cartongesso sono 60 cm capire dove è il montante invece è più un problema perché sopra non riesco a capirlo è tutto tappato non vedo le giunte del cartongesso se le vedo è un cartongesso a doppia lastra e ad altezza la lastra non è così alta quindi io non so esattamente dove corrisponde l'unica a provare e vedere appunto se si riesce a tagliare lì allora se i montanti sono ogni 60 cm in 150 ne potrei beccare due sì due tre no di sicuro perché io ho 1.500 ok 1.500 scusate quindi 150 se ho culo i due traversi sono più rientrati se sono sfigato uno dei due mi capita esattamente dove devo fare il taglio complicandomi la vita io confido per come è messa la parete che siano leggeri quello dovrebbe essere al pelo e quello dovrebbe essere rientrato casomai adesso farò qualche carotaggio ma ad ogni modo questo è il foro da fare mentre il traverso che tiene il montante scusate che tiene il traverso che regge tutto è all'altro quindi quello non c'è problema è sull'altro 60 capita più o meno in corrispondenza di quella fuga lì ora per tagliarlo l'ideale per fare meno meno polvere possibile è usare il distrattato strumento multifunzione di cui ovviamente non ho mai le lame neanche in questo caso non le trovo neanche da bricomo e da nessuna parte quindi o le ordino su Amazon e le rimando a domani oppure provo con oppure carotaggio con la punta del trapano seghetto alternativo e poi sega giapponesi rioba per fare un lavoro più preciso adesso vedo in ogni modo al massimo posso anche piare la scarpata che tanto quel cartongesso lì non lo devo riutilizzare forse se riesco lo riutilizzo per fare l'imbotto però l'imbotto posso farlo anche in legno in MDF in qualsiasi altro modo direi che ci proviamo non so se a questo punto solo le due porto a casa il risultato oggi di fare il foro passante non sarebbe male vedere Gianna stasera che corre avanti e indietro senza battere la testa io invece la prendo proprio qua però non importa ci provo ragazzi grazie a tutti allora io il lavoro chirurgico l'ho fatto chirurgico più o meno avessi avuto la vista laser l'avrei fatto molto molto meglio però non è neanche così malaccio diciamo che non dovrò stuccare proprio proprio come un dannato anche perché in realtà per l'imbotto ho un'idea perché non esiste fare un imbotto pseudo normale tutto rifinito in cartongesso bisogna fare qualcosa di ficcante anche quando viene spostato il mobile cosa avevo detto in 150 i montanti in 60 non beccherò mai tre montanti infatti 1 2 e 3 ti appareva per forza di cose perché non sapevo qual era la partenza l'importante per me che i montanti non fossero sulla prima riga e sull'ultima riga in modo tale che non mi complicassero la vita mentre così molto più semplice li ho anche tritati via facilmente perché li avevo già marcati più o meno dove si trovavano col cerca metalli e col seghetto alternativo li ho zancati via senza problemi non sono potuto ovviamente arrivare fino in fondo perché c'è il traverso e quello non sono riuscito a tagliarlo ma non è un problema prima di andare avanti e farvi una domanda su come andare avanti perché poi comunque dovrò fare anche l'atto di là che a questo punto è meno preoccupante mi dovete spiegare perché ci sono certi argomenti come l'elettricità l'idraulica il cartongesso che fanno fare fuori un brulicare di gente che sa tutto lui cioè sa tutto loro tanto è vero che qualcuno senza fare nomi perché sono buono tanto tu sai che mi riferisco a te mi ha detto e beh ma è facile cioè l'angolo c'è sicuramente il montante quindi parti da quello dell'angolo fai ogni 60 ma chi cazzo ti ha detto che non siamo partiti a fare questo ragionamento dall'altro angolo e infatti il primo montante è a 40 dall'angolo e poi ogni 60 questa roba mi fa uscire di cranio quella gente che dà tutto per scontato a chi invece mi ha chiesto e insiste anche se io l'ho spiegato la motivazione per messaggi perché non ho fatto questa alta direttamente ai 2.10 chiuso la porta usata questa come porta per passare e usato quello per mettere i mobili te lo rispiego questa porta qua non è una porta quella è la porta è di là che passo se io usassi questa come porta scambierei quella la tappassi scambierei un 150 con un 100 perderei 50 cm e anche se questa qua è vero potrei comunque usarla con davanti il mobile di qua e di là per passare dovrei tutte le volte che devo andare di là spostare questo mobile spostare quello dall'altra parte perché quello dall'altra parte mi serve io non posso in questa stanzetta micragnosa in cui devo infilare un sacco di roba fottermi 180 perché di qua sono 180 cm quindi questa è la porta questo è il vano occasionalmente pertugiato ora la questione per andare avanti qual è? io ho fatto anche il taglio chirurgico per stuccare il meno possibile e mi ero in qualche modo anche un po' da idiota illuso di poter tirar via tutto il pannello ma io so dove sono i montanti ma non ho idea di dove siano le viti anche perché le viti saranno su una lastra e sull'astra e sull'altra quindi c'è un modo migliore che prenderlo a martellate e strapparlo a pezzi sì forse potrei incidere di fianco ai montanti così da tirare via le strisce è forse la cosa più intelligente che io posso fare siccome mi prendo ancora un caffè e fumo una sigaretta che sono le tre e sta arrivando anche un mio amico per tagliare due pezzi e piallarli se c'è un modo più intelligente per che non strapparlo via tutto oltre a tagliare le strisce dove sono i montanti e togliere i pezzi interi ditemelo non vorrei pigliarlo a martellate o a testate boh non lo so ok ho tagliato i pezzi che dovevo tagliare al mio amico abbiamo fatto due chiacchiere è andato ora ho trovato il modo di togliere le viti con lavoro certosino perché non voglio distruggere questo pannello un po' poi fa povere fa schifo e magari poi mi serve in qualche modo non so ancora bene come voglio fare l'imbotto per cui mi serve suggerimento dato da uno di voi una calamita muovo la calamita fin tanto che non trovo le viti muovo la calamita libera quando si ferma è perché lì c'è una vite quindi in teoria da qualche parte prima o poi perfetto e via così qui le calamite erano a coppia l'ho già tolta un lavoro un po' di pazienza ma ne vale la pena per salvare il pannello perché comunque ce n'è ancora tanto e nel caso volessi usare una fetta di quella per chiudere il foro maledetto risatara che non so cosa serve posso usarlo in questi lavori noiosi dove non c'è tanto da vedere sapete che rispondo di più ai commenti mi avete visto nel timelapse tirare il seghetto alternativo dalla presa lì qualcuno mi ha chiesto perché non ho usato questa perché non sapendo cosa c'è dentro per non saperne leggere e scrivere ho staccato l'elettricità al lato lì dietro alle prese perché sa mia che passo col seghetto ranco via un cavo e rimango lì attaccato e vedete un timelapse di me è attaccato che poi i capelli diventano peggiori così quindi adesso calamitina pazienza passo tutto vediamo se riesco a togliere questo pannello devo ancora pensare alla parte bassa se salvo il pannello sono un bambino felice ciao a tutti Dio che ansia, però la teoria ha funzionato. Qualcuna l'ho mancata perché non ha preso, qua ho beccato proprio la separazione delle due lastre, poco male. Le lastre dietro sono tutte intere, queste sono tutte più o meno intere, però l'è un bel buse, l'è proprio un bel buse, come dice Milano. Allora, qualche postilla e qualche nota in base ai vostri commenti e qualche spiegazione in più. Sto aspettando a tagliare i montanti perché voglio capire bene come fare l'imbotto, se voglio mettermi a stuccare, a rompermi le palle o fare una cornice, se devo riportare quelli all'esterno, anche se non arrivando in cima non ha senso, se devo fare un architrave magari in legno nello spessore, ci devo pensare un attimo e adesso magari ci ragioniamo anche assieme, dato che sono le 5, bevendo il caffè delle 5. I ragionamenti sono, allora un paio di commenti mi sono arrivati, uno intelligentissimo, commento che riguarda l'interno, io ho supposto, col punto di domanda, di chiudere questa parete qua e Marco mi ha detto che non escluderebbe l'accesso rapido al bagno, non tanto per questioni fisiologiche di purghe varie, ma solamente per l'accesso al lavandino, perché nel caso poi introducessi anche la stampa resina può essere comodo di sciaccare qualcosa. Venduto e l'abbiamo pensato più o meno in contemporanea, o meglio, io non l'ho pensato per avere un accesso rapido al bagno, perché poi so niente di stampa resina, si ricordo che vanno sciacquati i pezzi e altre robe, comunque è comodo l'accesso. L'ho pensato per un altro motivo che vi dico tra 5 minuti, ma prima vi dico le altre due commenti che sono arrivati, uno più scemo dell'altro. Il primo è semplicemente questo, non vi faccio la vocina. E se tu avessi fatto i conti prima avresti potuto togliere solamente il montante centrale e tagliare a ridosso di questi. No, perché l'interasse di questi è 116 qualcosa, non è 120, 120 è la spina del montante. E a me 116 non bastano, perché la misura minima, e le campagne lo confermano, è 120, 121 per la precisione, se non ricordo male. 121, quindi per quello ho fatto un'abbondanza di 150. Se no, a parte che non avrei saputo come trovare il montante, però ad ogni modo è più giusto così. L'altro commento invece è ancora più cretino, soprattutto perché è fatto in questo momento, in questa fase del lavoro, dove tutto ciò che io ho fatto vedere è una piantina con una lista. Il commento è questo, è però davanti un mobile su ruote che si sposta, non è da te, non è ficcante. A parte che la frase non è da te mi fa girare i coglioni perché non facciamo colazione assieme, non ci conosciamo. E poi, l'ho detto, tutta la ficcanza va dall'altra parte. Di qua non voglio modificare quel mobile, per questioni di profondità non posso farlo aprire, posso solo farlo spostare o inventarmi qualcos'altro, ma niente di più. Per la ficcanza di qua non vi anticipo nulla, più che altro perché non posso anticiparvi, continua a passare sotto perché mi diverto. Non posso anticiparvi, quello che non so, l'unica cosa che vi dico sono queste tre informazioni. Ripeto, non ho le idee chiare, è una sensazione. Ho fatto in modo che questa misura di profondità qua sia uguale a quella misura lì e che questa larghezza qua sia uguale a questa larghezza qua. Aggiungo la parola double face. Non vi dico nient'altro perché, ripeto, è un'intuizione, non ho disegnato niente, non mi occupo di questo. Non mi occupo di questo ora. Per l'infisso, e passo sotto, per l'infisso invece adesso qua per l'imbotto c'è un po' da scegliere, per cui facciamo una serie di ragionamenti e datemi una mano veramente a sto giro, non con commenti cretini. Mi schiaccio un caffè e ne parliamo. Allora ragazzi, il ragionamento che voglio fare non è strutturale, perché strutturale ho ben poca scelta, come state continuando a consigliarmi. Io sposterei i montanti, io farei un architrave. Quello è palese, non è che strappo via tutto. Per quanto ci sia l'angolo che è portante, per quanto ci sia un altro montante subito lì, questi li spostiamo. In sostanza, quello di cui volevo discutere è solo questo. Quello lì si taglia, si sposta più in là, va inserito lì. Quello lì si taglia, si sposta più in là, va inserito lì. Quello sotto va arrancato via fuori dalle palle. Questo qua si taglia, si gira, si infila dentro e fa da architrave. Adesso poi capiamo i dettagli, capiamo come, capiamo se devo tagliare un po' più corto, ma quelle sono raffinatezze. Tutto il discorso è la questione estetica di questo passaggio, perché inizialmente io pensavo di fare una roba un po' particolare, cioè un montante con lo spessore tutto in legno, l'altro montante sotto dall'architrave, di dencompatate, tutto in legno e sulla spigolatura una cornice esterna in legno di qua e una cornice esterna in legno di là. È vero che qua conta poco perché va rimessa alla boiserie, però dall'altra parte sarebbe venuta una cornice in legno. Ora invece, a vederlo così, soprattutto da questo lato ragazzi, quello che mi viene da fare è un passaggio netto, secco, come erano queste porte qua prima che io mettessi dentro quelle nere. Quindi qualcosa di cartongessato a spigolo così. Quindi che vuol dire spostare i montanti, mettere pannello di cartongesso, pannello di cartongesso, pannello, coprifilo e stucco. È un lavoro che non è che abbia alla ficcanza della semplicità, diciamola così. Quindi non ha qualcosa di particolare, perché la ficcanza non è per forza qualcosa di strano o particolare, ma ha la correttezza formale di una volta tolto il mobile di qua, spostato quello di là, avere un vano secco. Per fare questo richiede fare tutti i lavori di cartongesso che ho detto e soprattutto avere un'ottima mano in fase di stuccatura, perché se deve essere una roba di cartongesso, deve essere netta, pulita, non può venire una roba di merda. E io so che non ho una buona mano di stuccatura di sta roba. Mi sembra, mi ricordo, sapete che ho la memoria di un facocero, mi sembra di aver fatto qualcosa con il cartongesso già qua, ma non mi sembra che avessi... Ah sì, le finestre sopra la camera, i finti lucernari sopra la camera. Non ho tutta sta mano. Dovrei avere una mano almeno, almeno come quella di Bruno di Manualmente che è stata top, ha fatto un lavoro assurdo. Io poi parto da un cartongesso già stuccato e già verniciato. Quindi il coprifilo penso che lì, e qualcuno me lo confermi, devo togliere lo stucco su tutto il dintorno prima di mettere il profilo. Devo arrancarlo via. Quindi non lo so, perché questa soluzione, indubbiamente, è la più difficile, ma quella che esteticamente sarebbe meglio. Con probabilità, essendo la più difficile, farò questa. Quindi, siccome sia per una scelta che per l'altra è bene che io prenda e sposti questi montanti e facciali alla chitrave, e l'obiettivo di oggi era fare il foro, io dire il foro, il buco, il passaggio, ne ho rotto i coglioni in questa storia dei buchi e dei fori, perché questo era il piano dopo avervi presentato, anche se ho iniziato tardi, direi che adesso taglio quelli, li metto, li avvito tutti intorno dove devo avvitarli, faccio il lavoro che devo fare, e per domani prendo una incisione. Stucco ne ho a valanga, quello in polvere, che so già che mi direte di usare quello e non quello pronto, anche se quello pronto è molto più comodo. Dovrei procurarmi domani i coprifili, e devo, ripeto, così mi consiglia qualcuno che però sa di cosa parlo, forse devo togliere tutto lo stucco qua, se devo mettere il coprifilo, se no non mi viene a pari. Non lo so. Parto a fare il passaggio netto, così almeno quello è fatto, e siamo tranquilli. Il passaggio netto, Odio il cartongesso, lo odio proprio visceralmente, è un materiale freabilissimo, duttile, pesa come la statua della madonna della santa incoronata, non lo so cosa pesa però fatto, un bel gate come ha suggerito qualcuno che è la parola chiave, allora adesso andiamo con ordine, allora adesso devo scegliere, ho tre opzioni, tutto il legno con cornice e vado quindi a coprire me ne frego di stuccare, usare quelle parti per fare tutto il contorno, mettere il coprifilo di qua, mettere il coprifilo di là, 400 mani di stucco, affinare le mie capacità ficcanti di stuccatore che sono praticamente a zero e fare un lavoro tedioso, noioso, lungo che però mi fa crescere, oppure la terza via, cornice in MDF, tela, livellino di stucco e poi vernice con il difetto che potrebbe crepare come mi ha spiegato Giuseppe di Sticker Monkey, sarà una delle tre, di sicuro non la quarta che mi è stata suggerita, cioè lascia pure il buco così, tanto davanti c'è il mobile, di là c'è l'altro mobile, lo userai se no due volte l'hanno per passare qualcosa, se arrivano macchine nuove non lo vedrai mai, sì ma se io lo lascio così, le due volte che sposto il mobile e vedo quella roba lì, do giù di cranio che mi dovete venire a prendere a guardia seconda al Policlinico di Milano, guardia seconda è il reparto psichiatrico del Policlinico, quindi non posso lasciarlo così, cioè non ce la posso fare, io poi vado di là, dormo di notte e sto tutta notte a sfregarmi la testa perché so che il gate è fatto così, non esiste, questa opzione qua non c'è, mi avete fatto delle domande, ciao, in più di uno mi avete fatto tre domande, la prima, non potevi comparti delle cesoie apposta invece di usare il seghetto e fare fatica? Sì avrei potuto, sì, è una di quelle cose che non compro mai perché dico sempre ma quando mai userò i profili, modificherò i profili per il cartongesso e poi quando devo farlo uso il seghetto, seconda domanda, perché non ho usato quello sotto come architrave? Allora un po' perché quello era incollato col biadesivo, aveva anche in realtà un fischer e per tagliarlo ho dovuto praticamente distruggerlo perché lì ho dovuto tagliarlo a filo e un po' perché ragazzi le misure, se quello lì deve fare da architrave, su quelli devono andare in battuta, quindi quello deve sporgere, non posso usare quello interno, qui non siamo neanche a livello di quadrimenziale, questo è bidimensionale, larghezza, larghezza, quindi non si può fare. L'altra domanda che mi avete fatto veramente in tanti e io non ho capito se ascoltate o non capite, perché già che c'ero non ho fatto il gate alto abbastanza, cioè 2,10 per passarci sotto senza chiudere la porta, semplicemente per comodità, così quando spingo la roba ci passo anche sotto, come se questo lavoro fosse difficile, per un semplice motivo. È la premessa, quel mobile non va modificato e deve coprire il foro, quindi comanda all'altezza del mobile. La fiera qua è solo una in questo lavoro per me, da questo lato del laboratorio. Tornare ad avere la mia parete, quello che un po' di tempo fa chiamavo proscenio, esattamente così com'è, cambiare tutto per non cambiare niente. Questa è la filosofia, quindi così voglio fare. Poi ragazzi 1,50, cioè quando si passa sotto si abbassa un po' la testa, poi ripeto uno può anche spingere di qua mezza roba che deve portare dentro, passare dalla porta e ritirarla di qua. Come andava il mobile, non volevo fare una roba 2,10 che poi avrei comunque anche tolto troppo. Ad ogni modo, il risultato oggi è stato portato a casa, quanto mi ero prefisso l'ho portato a casa, con sorpresa vi dirò la verità. Non ho idea se io abbia fatto un buon lavoro di cartongesso o no, non ne ho la più palida idea, perché non ho assolutamente nessunissima esperienza in questo campo, non so, sono completamente ignorante, quindi non lo so. Per domani scelgo una delle due strade, che sono quella veloce, anche un po' barbona, di fare la cornice di tutto intorno, che può anche avere un senso, ma è un po' una scorciatroia, o quella lunga, dispendiosa, di fare la stoccatura, in cui devo imparare, poi mi girano le palle perché lascio la rega, non riesco a stoccare come si deve, devo mettere il coprifilo, che però mi farebbe crescere un po' personalmente. Una delle due scelgo, in caso fosse la seconda, preparatevi al tedio, la morte e i momenti bestemmia, perché non mi verrà mai come dico io. Quindi per quello non ho messo su gli spessori in cartongesso, perché dipende da quelle delle due. Ora, vado a farmi una birra, noi ci vediamo domani.